Dottore, un lavoro che non si è mai fermato anche in questi ultimi due anni così difficili? No, assolutamente no. Due anni difficilissimi, ma le Avis hanno sempre collaborato. Abbiamo avuto sempre sangue a sufficienza. Ovviamente c'è stato un lieve calo, ma è un calo fisiologico dovuto ai positivi, alle quarantene, a tutto quello che è successo. Ma l'Avis di Pesor, l'Avis di Fano hanno collaborato assolutamente, soprattutto per la produzione di plasma iperimmune, che è servito e ne abbiamo prodotto tanto. E poi plasma non abbiamo mai avuto carenza e sangue non abbiamo mai avuto carenza. Di conseguenza dobbiamo solo ringraziarli. Oggi è una giornata particolarissima, le forze dell'ordine, ma diciamo che queste si susseguono. Non ci sono solo le forze dell'ordine, hanno partecipato tutti, ci sono richieste continue. I donatori nuovi stanno arrivando, ma ovviamente noi non ci accontentiamo mai, questo è evidente. Però il ringraziamento, la collaborazione, tutto quello che hanno fatto va assolutamente concesso. e l'allora sono solo le forze dell'ordine, ma ovviamente non ci accontentiamo. Grazie a tutti